Salve ragazzi, ben trovati da Runway Sport con il Neocattolo e con il Novo Ecolucci. Ritorniamo alla migliore scelta per un acquisto intelligente della nostra scarpa da running. Qual è la superficie della scarpa che poggia a terra? Per visualizzarla con sicurezza è sufficiente lasciare un'impronta bagnata su un fondo asciutto e questo già lo conosciamo, sappiamo un po' tutti. Tale indicazione risulta però più significativa delle disquisizioni su forme curve o forme dritte e non risultano a tutti ancora così chiare. Sembra più semplice dire che una scarpa stabile ha la maggiore superficie di appoggio mentre una scarpa leggera da gara ha la minor superficie di appoggio. Una scarpa a massima ammortizzazione avrà anch'essa una notevole superficie di appoggio mentre una scarpa intermedia avrà anche una superficie tra quella di massima ammortizzazione e quella da gara. Di conseguenza l'adattamento alla morfologia individuale e quindi al di là dell'ovvia rispondenza della taglia sia per la lunghezza sia per la larghezza è necessario che le scarpe da usare risultino quanto più possibili compatibili con la morfologia di ogni piede che può essere molto varie. Anche fra uomo e donna vi sono notevoli differenze a parità di lunghezza. Nella donna i talloni sono più stretti, l'avampiede è più stretto, il colo del piede tende a essere più basso. È indispensabile verificare che le scarpe che intendiamo usare abbiano un volume interno adeguato. Non avrebbe alcun senso correre con scarpe strette poiché l'eventuale strozzamento nella zona metatarsi potrebbe penalizzare la funzionalità del piede. I brand che hanno fatto la storia delle scarpe da running sono quelli che hanno sviluppato le migliori forme e l'esperienza individuale permette di capire quali forme di quali brand sono maggiormente indicate ai nostri piedi. Bene, detto questo ci risentiamo alla prossima puntata per parlare di altre cose molto più importanti. A presto da Runway Spot. Grazie.